Benjamin Netanyahu è formalmente incriminato. Il premier israeliano è sotto inchiesta e su di lui pesano accuse di corruzione, frode e abuso d'ufficio. Secondo l'accusa avrebbe accettato centinaia di migliaia di dollari in sigari e champagne, sfruttando la sua influenza per aiutare un pezzo grosso delle telecomunicazioni in cambio di copertura mediatica. È la prima volta in 71 anni di storia di Israele che un primo ministro in carica viene incriminato. Ho preso questa decisione di emettere un atto d'accusa contro di lui con la morte nel cuore, spiega il procuratore generale, ma l'ho fatto con tutto il cuore, con un sentimento di profondo impegno per lo Stato di diritto, per l'interesse pubblico e per i cittadini dello Stato di Israele. L'applicazione della legge non è una questione di scelta, non è una questione di destra o sinistra, non è una questione di politica. Il leader di Likud continua a negare categoricamente le accuse, affermando di essere vittima di una caccia alle streghe. C'è un tentativo di ribaltamento di potere nei confronti del primo ministro, ha dichiarato durante la conferenza stampa, nella quale ha sottolineato come questa decisione arrivi in un momento molto delicato per la politica dello Stato ebraico. È di mercoledì, infatti, la notizia del fallimento dei negoziati per la formazione di un nuovo esecutivo da parte del leader del partito blu-bianco, Benny Gantz, al quale il presidente Rivlin aveva affidato l'incarico dopo la debacle dello stesso Netanyahu. Il rischio ora è che si torni nuovamente al voto, per la terza volta in 12 mesi. E in questo caso, per la prima volta in due decadi, Bibi potrebbe non essere più uno dei protagonisti della scena politica.